se riesci ad eseguire correttamente lo schiocco sopra la testa nella sua versione dritta nella sua versione reverse puoi provare a combinare insieme eseguendo una figura 8 lenta sopra la testa attenzione l'unica vera difficoltà di questo esercizio è mantenere la frusta in volo tra una transizione e l'altra perché in realtà per tutto quello che riguarda l'esecuzione tecnica se non ti viene il motivo è perché non fai ancora abbastanza bene o l'overhead nella versione dritta o nella versione reversa vediamo insieme come l'esercizio carico schiocco mantengo la frusta in volo e schiocco dall'altra parte guardiamola anche da qualche altra angolazione e 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